Ciao a tutti, bentornati sul mio canale Anita Stories In questo video vado a fare lo slime scoppiando palloncini minuscoli Quindi sapete che si può fare appunto lo slime scoppiando palloncini normali, scoppiando palloncini giganti Io ho deciso di farlo scoppiando palloncini minuscoli Quest'idea l'ho presa da una youtuber americana penso, che si chiama Isabella Estress Quindi assicuratevi di andare a guardare i suoi video perché è bravissima Allora ho deciso di provare anch'io e ho deciso di fare appunto dei slime in miniatura Che ho sempre voluto fare Quindi una volta che li creerò poi nella ciotola andrò a metterli in queste mini confezioni, mini contenitori E uscirà appunto uno slime in miniatura, sono super curiosa di vedere come escono Perché a me le cose in miniatura mi piacciono tantissimo Fatemi sapere se anche a voi vi piacciono le cose in miniatura Quindi ho sempre voluto fare gli slime in miniatura E quindi andiamo a farli con i mini palloncini Mi raccomando lasciate un like, vediamo se riusciamo a raggiungere 10.000 like Se riusciamo a raggiungere 10.000 like ho delle sorprese per voi che sto preparando E come sempre vediamo se riuscite a trovare la parola segreta del giorno E iniziamo subito Allora in uno di questi ho messo la colla trasparente e nell'altro ho messo la colla bianca Non mi ricordo bene in quale, forse questo Comunque iniziamo con questo Vediamo un po' cosa ne uscirà fuori Quindi come vi ho detto andrò a fare due slime Uno con la colla bianca e uno con la colla trasparente Questo era con la colla trasparente Bianca scusate non trasparente Comunque continuiamo Abbiamo qua del colorante Luzione Andiamo a mettere la luzione Vediamo se facciamo o il fluffy slime in miniatura Oppure il crunchy slime in miniatura Fatemi sapere nei commenti se voi preferite il fluffy slime o il crunchy slime Andiamo a scoppiare la luzione Sono super curiosa di vedere come usciranno Alla prossima Chegno 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti